Yodmet Festival, premiazione Ambientarte, terza edizione, mostra di arte contemporanea sul tema il Mediterraneo, un mare che divide, un mare che unisce. L'iconoscimento speciale attribuito a, purtroppo a me stessa, Vittorio Pannone, per l'opera Le vie del mare. I curatori Massimo Nicotra e Sascha Zelenkiewicz, il direttore della Pienacodaria Comunale, Vincenzo Lieto, il presidente della Camera del Commercio di Latina, Vincenzo Zotto, la Gaeta 21 aprile 2012. Inaspettato, all'improvviso, questo anche verso tutti, Giampaolo, Idile, grande corniciaio, gallerista, bravo a promuovere artisti, bravo con il fiuto alla Saitombli, sempre operativo, sempre attivo. E quindi, insieme a Schwanon, alla grande, qui Gaeta, Yodmet Festival, Schwanon.